Sindaco Nino Borzi, rapporti con l'azienda Funivia dell'Etna si fanno sempre più tesi. Nell'ultimo Consiglio Comunale lei ha espresso la posizione dell'amministrazione? Sì, è una posizione, devo dire, abbastanza chiara per quanto ci riguarda. La Funivia dell'Etna ci ha richiesto con una nota proprio di discutere l'argomento in Consiglio Comunale, lo abbiamo fatto volentieri proprio per chiarire ai tanti operatori economici dell'Etna com'è la situazione. La Funivia dell'Etna ci chiede di chiudere tutti quelli che sono le problematiche che leggono i nostri rapporti, in particolare la proprietà dei terreni su cui esistono gli impianti scioviari, facendo una transazione per la durata di 29 anni, cosa che per noi risulta impossibile per diversi motivi, ma prima fra tutti il fatto che noi non possiamo costituire, così come loro ci chiedono, una società mista con loro, direttamente con loro, anche perché oggi la normativa va esattamente verso il senso opposto che è quella della dismissione delle società partecipate. E quindi il primo problema è questo. Il secondo problema è che noi non siamo in via di pregiudizie e voli contro la transazione, ma certamente non può essere per 29 anni. La proponiamo al massimo di 4-6 anni in modo da arrivare così fra 6 anni ad avere definita la proprietà delle aree su cui esistono gli impianti e poter procedere finalmente all'affidamento degli stessi mediante gara a pubblico incanto.